Cosa significa per voi, dell'autorità regionale per la partecipazione, partecipare, offrire una partecipazione in questa regione? Per me vuol dire sviluppare un potenziale di coesione sociale che esiste molto nella nostra regione e che molte volte è limitato ai corpi intermedi della società, cioè ai gruppi organizzati, mentre credo che sia opportuno oggi in un clima in cui le istituzioni rappresentative soffrono di un momento di distanza dai cittadini poter aumentare il coinvolgimento dei cittadini, chiamiamoli sfusi di coloro che non hanno un'appartenenza e delle categorie sociali che in alcuni casi, soprattutto le categorie economiche, stanno assenti dai processi partecipativi. Quindi significa ricostruire l'intera piramide dai gruppi più esclusi ai gruppi più potenti, quindi sensibilizzare anche per esempio le imprese, categorie che ancora non sono entrate totalmente in sintonia con i processi partecipativi. La nuova regge regionale 46 2013 è ambiziosa nei suoi obiettivi, nei suoi scopi, riuscirà davvero a cogliere nel segno? Io credo di sì perché è importante considerarla con una gradualità. In questo la legge stessa aiuta perché per esempio riguardando il dibattito pubblico non permette di realizzarlo nel periodo di stress elettorale, preelettorale. Quindi ci dà un tempo importante per preparare e fertilizzare il terreno. Per esempio in questo momento dialogare con i tecnici della regione, dialogare con categorie come le imprese, soprattutto le grosse imprese, quelle che lavorano sul territorio in temi molto ampi, dalle grandi infrastrutture, perché abbiamo la prova in altri paesi come il Canada e la Francia che esiste un punto di non ritorno in cui le imprese iniziano a capire anche i vantaggi che ci sono nel dialogo con la cittadinanza. Quindi vorremmo utilizzare questi mesi di spazio che abbiamo, in cui non possiamo realizzare processi a scala regionale, ma solo per ora i processi locali, per fertilizzare il dialogo con questi gruppi e queste categorie. Grazie. Grazie.